Hallo e willkommen, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sakuri, da otto anni vivo e lavoro in Norvegia come insegnante di lingue e in questo video vi presento l'offerta che sto per lanciare dedicata a tutte le persone che vogliono imparare la lingua norvegese. L'estate purtroppo è finita, si torna al lavoro dopo le ferie, la scuola ricomincia sia per gli studenti che per noi insegnanti. Settembre è sempre un mese di grandi cambiamenti e di voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, voglia di reinventarsi, voglia per qualcuno di cambiare vita. Molti di voi mi chiedono aiuto per trasferirsi in Norvegia. Uno dei modi che io ho per aiutarvi a trasferirvi in questo paese è quello di insegnarvi la lingua norvegese e in occasione del rientro a scuola ho pensato di farlo mettendo in promozione uno dei miei corsi. L'offerta nello specifico riguarda il mio corso di lingua norvegese online, interattivo, senza insegnante, ma comunque con un sacco di supporto, poi vi spiegherò come funziona. Questo corso finalmente dopo moltissimi mesi, da domani martedì 24 settembre 2024 ovviamente, tornerà in sconto passando da un prezzo di 499 euro ad un prezzo di soli 299 euro. L'offerta, come vi dicevo, sarà valida dalla mezzanotte di domani martedì 24 settembre fino alle 23 e 59 di domenica 29 settembre. Ebbene, naturalmente vorrete sapere cosa state acquistando con questo corso, che cosa imparerete, cosa vi offro. Il corso riguarda per il momento soltanto il livello A1 di competenza della lingua norvegese, ma in futuro pubblicherò anche un corso di livello A2 e un corso di livello B1 strutturati assolutamente nello stesso modo. Quindi questo corso di livello A1 farà parte di una serie più completa. Con l'acquisto di questo corso avrete accesso a oltre 10 ore di video lezioni di grammatica pre-registrate e audio registrati da madrelingua norvegesi. Vediamo più nello specifico di che cosa si tratta. Nelle video lezioni pre-registrate vi spiegherò le basi delle regole della grammatica norvegese. E voi avrete accesso illimitato a queste video lezioni. Cosa significa? Significa che potrete guardarle e riguardarle in qualsiasi momento. Se non avete capito una determinata regola di grammatica o non vi ricordate come funziona un aspetto della grammatica norvegese, in qualsiasi momento voi potrete andare avanti e indietro all'interno dei vari moduli del corso e recuperare le informazioni che avete dimenticato o che non avete capito bene. Audio letti e pronunciati da madrelingua norvegesi. In questi audio potrete ascoltare la pronuncia di diversi vocaboli, frasi o addirittura dialoghi in lingua norvegese. Con l'acquisto del corso avrete anche accesso ad una app esterna che vi permetterà di imparare in modo interattivo, divertente, facile e veloce oltre 750 vocaboli di base e di uso quotidiano della lingua norvegese. Tra i vari moduli del corso avrete accesso a oltre 120 esercizi interattivi da eseguire online che voi potrete usare per consolidare le regole di grammatica e i vocaboli che avrete appreso durante il corso. Una volta completato ogni esercizio voi avrete una correzione immediata e automatica in modo da poter avere un supporto che simula il supporto che voi avete in classe quando imparate una lingua straniera con un insegnante che è fisicamente presente vicino a voi. Nel corso sono anche compresi 20 contenuti extra riguardo a modi di dire norvegesi, espressioni idiomatiche, informazioni sulla cultura, sulle tradizioni, sulla burocrazia. Questo perché quando si impara una lingua straniera non si imparano soltanto una serie di parole e di strutture grammaticali ma si deve necessariamente anche imparare qualcosa sulla cultura del posto in cui ci si vuole trasferire. E ultimo ma non meno importante, con l'acquisto del corso avete diritto anche a 60 minuti di videochiamata online su Teams faccia a faccia con me per valutare i progressi, correggere a voce eventuali errori ricorrenti e ricevere in generale un feedback sul vostro lavoro ma soprattutto anche per ricevere dei consigli su strategie e tecniche di apprendimento della lingua che possano esservi utili e aiutarvi a imparare ancora meglio e ancora più facilmente la lingua norvegese. Non esiste un limite di tempo per completare questo corso, come dicevo avete accesso a tutti i materiali illimitatamente, però la quantità di ore stimata per completare tutti i moduli del corso va dalle 30 alle 40 ore, ma come dicevo potete anche ogni volta che volete in qualsiasi momento del vostro apprendimento della lingua norvegese recuperare vecchi materiali, riguardare le lezioni, rifare gli esercizi, potete rilavorare sia con gli audio che con la app per i vocaboli. Quali sono i vantaggi di questo tipo di corso rispetto alle lezioni online faccia a faccia con me su Teams, che è la mia altra proposta di insegnamento della lingua norvegese per voi. Questo tipo di corso è vantaggioso per diverse ragioni, una su tutte il fatto di avere a disposizione molti più materiali e molti più esercizi di quelli che io vi posso mettere a disposizione con le lezioni faccia a faccia con me su Teams. Un altro vantaggio è quello di avere accesso illimitato a tutti questi materiali, quindi come dicevo potete lavorare con esercizi diverse volte, fare lo stesso esercizio più e più volte. Per quanto riguarda gli esercizi, come dicevo, la correzione e il supporto sono immediati, mentre invece in un normale corso faccia a faccia dovreste ovviamente aspettare la lezione successiva per avere un mio feedback su eventuali vostri errori, mentre invece con questo tipo di corso qualsiasi dubbio vi viene chiarito immediatamente. Ma soprattutto il vantaggio è quello di poter riguardare diverse volte le video lezioni pre-registrate di grammatica. Ma il maggiore vantaggio per quello che mi riguarda è la flessibilità, flessibilità a livello di orario. Potete decidere liberamente voi quando e per quanto tempo studiare con questo tipo di corso. Con le lezioni faccia a faccia con un insegnante siete ovviamente vincolati a orari prestabiliti. Tendenzialmente con i corsi tradizionali si ha la possibilità di fare lezioni massimo una o due volte a settimana, per un massimo di due o quattro ore a settimana, oltre ovviamente al lavoro autonomo durante la settimana per lo svolgimento dei compiti. Ma sempre ovviamente con il vincolo di un giorno e un orario stabilito. Mentre con questo corso se avete tempo 10 minuti la mattina sul treno mentre andate a lavorare potete studiare un set di vocaboli. Se una notte non riuscite a dormire e volete studiare due o tre ore lo potete fare tranquillamente. Se avete tempo nel fine settimana lo potete fare nel fine settimana. Se avete tempo durante la settimana lo fate durante la settimana. Insomma è un corso che vi permette di essere più flessibili e più costanti nel vostro studio. Esiste una lezione gratuita di questo corso di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box. Cliccando il link vi verrà richiesto di registrarvi con un nome utente e un indirizzo email, ma questo non comporta assolutamente nessun tipo di costo. La lezione è molto semplice, imparate qualcosina sulle basi della lingua norvegese, ma soprattutto questa lezione gratuita è importante per capire come è strutturato il corso vero e proprio. In modo ovviamente da darvi la possibilità di farvi un'idea e capire se vi potete trovare bene con questo tipo di metodo. Se sceglierete di acquistare il corso durante la procedura di checkout online sul sito, avete anche la possibilità di scegliere di pagarlo a rate. Anche per l'acquisto del corso completo, ovvero e proprio, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Altrimenti trovate tutte le informazioni e i vari link per il corso gratuito o per l'acquisto sul mio sito www.norvegeseconsacori.com. Sempre su questo sito trovate anche informazioni in merito alle lezioni faccia a faccia online, ovviamente, su Teams, che menzionavo in precedenza. Probabilmente se non mi conoscete e vi state chiedendo che lavoro faccio qui in Norvegia, faccio proprio l'insegnante di lingue straniere. Prevalentemente insegno inglese e spagnolo nelle scuole norvegesi, medie e superiori. Insegno poi italiano agli adulti, principalmente, norvegesi, oltre l'orario scolastico ovviamente, e online insegno norvegese agli italiani. In Italia ho studiato lingue straniere sia al liceo che all'università, mentre qui in Norvegia ho frequentato corsi universitari di pedagogia per insegnare le varie lingue straniere che conosco. In questo corso online interattivo ho messo tutta la mia esperienza, tutte le mie competenze, tutte le mie conoscenze sull'insegnamento e sull'apprendimento delle lingue straniere, ho usato tutte le strategie più utili che ho imparato in questi anni e che ho sperimentato sui miei studenti non virtuali, quelli che incontro tutti i giorni in classe. Vi ricordo che se doveste avere bisogno di una traduzione per un curriculum, una lettera di presentazione o altri tipi di documenti o di testi, offro anche servizi di traduzioni, anche in questo caso trovate informazioni sul mio sito, sotto la voce traduzioni, e offro anche servizi di consulenza al trasferimento in cui vi spiego vari step burocratici, come muoverevi per la registrazione nei vari istituzioni norvegesi, come trovare lavoro, come trovare un appartamento e vi risolvo tanti altri dubbi che potreste avere in merito alla vita in Norvegia. Anche per questo c'è una sezione dedicata sul mio sito, si chiama Consulenze. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, se avete domande in merito al corso potete farmele qui sotto nella sezione commenti, o scrivermi sugli altri social che uso per rimanere in contatto con voi, Instagram, Facebook, Telegram e TikTok, o eventualmente all'indirizzo email info at norvegeseconsacuri.com A questo punto non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata o di serata, darvi appuntamento al prossimo video e se vorrete acquistare il corso, diventare miei studenti, ci vedremo molto presto durante le nostre video lezioni pre-registrate di grammatica norvegese e soprattutto, ovviamente, durante le nostre videochiamate su Teams. Adebra!